Al guidatore del cavallo vincitore viene consegnata una targa offerta da Radio International. Prima corsa, sono con il vincitore, quindi parlo di Lorenzo Baldi, che ha centrato questa prima corsa con Demetra AMG. Beh Lorenzo, lascio subito a te la parola, appena ricevuto ovviamente il premio da parte di Radio International, commentiamo questa bella vittoria, sicuramente avevi una cavalla attesa oggi. Sì, è una puledra importante, viene da tre vittorie consecutive e questo già, secondo me, è molto importante nella carriera. È una cavalla che abbiamo aspettato perché è nata a luglio, è nata a tardi, è saura di Mantello, figlia di Varen, quindi abbiamo, secondo me, fatto tutto bene, non è mai uscita dal marcatore una volta, è sempre seconda, terza, quarta, e poi adesso ho fatto tre primi a fila, mi fa sperare per la primavera, è una cavalla importante, anche perché è molto veloce in partenza, sa prendere la posizione presto e abbiamo, secondo me, una buona cavalla. Bene, ti ringrazio e ti rinnovo ovviamente i complimenti e ti lasciamo tornare in scuderia. Do con piacere anche il benvenuto a Rocco Simeone, che è il responsabile del Bologna FC Store, grazie per essere qui presenti oggi, ricordiamo che siete collegati anche a Radio International, quindi presentiamo un po' il Bologna Store, dove vi troviamo e soprattutto oggi cosa possiamo trovare qui all'ippodromo. Vabbè, intanto ringraziamo gli organizzatori per averci dato questa possibilità di essere qui oggi. È la prima volta, magari speriamo che ce ne siano anche delle altre, con il sole magari, che non sarebbe male. Noi siamo presenti tutti i giorni allo Stadio Allara, orario continuato, quindi dalle 10, no, non continuato, 10.13 e 15.30, 19.00, compreso anche il sabato, quindi venite a trovarci numerosi e un grosso saluto a tutti i tifosi di Rosso Blu. Bene, ti ringrazio e ricordo che il Bologna Store è presente fino al termine delle corse, lo trovate nel secondo picchetto proprio qui nel parterre. Oggi comunque ricordo sarà un pomeriggio ricco di avvenimenti, nella saletta polivalente si svolgeranno i laboratori per i bambini e poi ci sarà, dopo la quarta corsa, la premiazione del cavallo di Natale, che ricordiamo il sondaggio è stato vinto da Trifone Gal. Quindi ci ricolleghiamo tra poco, per ora dalla pista è tutto, linea alla regia.